bella a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video benvenuti nel canale di queen e king better than perfect e quest'oggi mi è arrivato un pacco da amazon spero che è quello che desideravo tanto insomma speriamo proprio perché non l'ho trovato nei negozi e andiamo a unboxarlo sì finalmente eccolo qua gioventù bruciata ma mood bellissima copertina diamo le canzoni un attimo naga soldi gioventù bruciata una macchina anni 90 fit fabri fibra non lo sapevo di questa remo mi ha mai figli unico soldi no c'è pure soldi con gue piccino no non ci posso credere fantastico raga che figata niente allora io me lo andrò a ascoltare me lo andrò a ascoltare che dite lo ascoltiamo insieme